Colpo di scena nella registrazione di Uomini e donne del 30 settembre 2024, di cui è stato protagonista indiscusso Mario Cusitore. Il 45enne napoletano è tornato in trasmissione per voltare definitivamente, pagina dopo, il capitolo Ida Platano e, come cavaliere del parterre del trono over, non ha perso tempo, mettendosi immediatamente in gioco, uscendo con più dame. Messa da parte Cristina Tenuta, con cui si è semplicemente concesso un ballo, Mario ha cominciato a conoscere alcune dame del parterre, ma anche altre donne giunte in trasmissione esclusivamente per lui. Tra queste anche Maura Vitale, dama della scorsa stagione del programma, che, chiusa la storia con Gianluca, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, è tornata in trasmissione esclusivamente per Mario, il quale, tuttavia, ha chiuso poi la conoscenza, dopo un'intervista di Gianluca, che ha messo in dubbio il reale interesse dell'ex nei confronti di Mario. Quest'ultimo, così, ha scelto di uscire con altre donne e, nel corso della registrazione odierna, c'è stata una clamorosa confessione. Dopo essere uscito con Morena e averla baciata, Mario Cusitore è anche uscito con Margherita, la quale, però, ha spiegato di essersi sentita delusa dal cavaliere napoletano al punto da aver pianto in studio. Tra Mario e Morena, tuttavia, la conoscenza non è affatto finita, ma non solo continua, ma sta anche diventando importante. Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 30 settembre, al centro dello studio, Mario si è lasciato andare una confessione bollente che ha scatenato il panico. Mario, infatti, ha confessato di essere andato a letto con Morena mentre ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Margherita. Le parole di Mario hanno scatenato diverse reazioni in studio, anche se, per il momento, non ci sono dettaglio. Probabilmente, a commentare la confessione di Mario, potrebbe essere stata Tina Cipollari, che nel giorno della puntata del suo ritorno in trasmissione gli aveva concesso una possibilità, augurandosi di vedere da parte sua un atteggiamento diverso. Maria De Filippi, da parte sua, ha difeso Mario spiegando che i protagonisti del trono over hanno molta più libertà potendo uscire con più persone. Mario, a quanto pare, sta facendo ciò che prevede il regolamento. Mario, a quanto pare, sta facendo ciò che prevede il regolamento. Allora, a quanto pare, sta facendo ciò che prevede il regolo. Grazie.